Nel primo video di questa serie abbiamo parlato di che cos'è una libertà finanziaria e dei 5 passi per poterla raggiungere, i 5 passi da seguire per poterla raggiungere. In questo video ci concentriamo esclusivamente sul primo passo dei 5, ovvero accettare la piena responsabilità. Scopriremo insieme perché questo passo è così importante e come può aiutarti a raggiungere la libertà finanziaria. Tutto questo, subito dopo, la nostra sigla! Eccoci qua ben trovati, benvenuti sul nostro canale YouTube. Come sempre siamo la famiglia Minimalista e io sono Mirko e lei è? Gloria. Sicura? Sì. Ah ok, va bene, se lo dici tu. E allora come dicevamo prima, siamo al secondo video della serie sulla libertà finanziaria. Nel primo abbiamo analizzato, diciamo abbiamo fatto un'introduzione alla libertà finanziaria, che cos'è la libertà finanziaria. E abbiamo introdotto, spiegandoli diciamo neanche troppo velocemente, i 5 passi per poter raggiungere la libertà finanziaria. E oggi, in questo secondo video, andremo ad analizzare, ci concentreremo esclusivamente diciamo sul primo passo che è? L'accettare la città è la piena responsabilità. Esattamente, quindi iniziamo subito, anzi ci perdiamo un attimo soltanto in convenevoli, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale, cliccate il tastino mi piace, attivate la campanellina perché poi arriveranno così le notifiche per gli altri video della serie su la libertà finanziaria e in generale gli altri video che andremo a pubblicare sul nostro canale YouTube. E poi commentate, vi aspettiamo numerosi. Fateci sapere cosa ne pensate, se sono argomenti utili, vi aspettiamo anche sui social, vi aspettiamo sul nostro blog barra shop, ovvero shop.lafamigliaminimalista.it Giusto piccolo spoiler, abbiamo in promozione tutti gli articoli di Dukiki, quindi shampoo solido, balsamo solido, detergente intimo solido, e li trovate scontati solo fino a domani. Detto questo, ci addentriamo all'interno del nostro video e cominciamo a, come sempre vi accompagneremo delle infografiche, così potete seguire magari anche senza audio, volendo le nostre spiegazioni, e soprattutto possono essere utili anche da screenshotare per chi ci segue, soprattutto dal mobile, e tenere da parte anche come frasi motivazionali o crearsi una, chiamiamola un'agendina, un quaderno dove tenere questi appunti e focalizzarsi sul da farsi, ecco diciamo così. Quindi cominciamo, amore mio, che cosa affrontiamo oggi abbiamo detto? La piena responsabilità. Ok, quindi come accettare la piena responsabilità? Per raggiungere la libertà finanziaria è importante accettare la piena responsabilità delle tue finanze. Questo significa che devi essere disposto a prendere le decisioni giuste per il tuo futuro finanziario. Devi essere disposto a rinunciare a cose che non sono importanti per te e a risparmiare per i tuoi obiettivi. Devi essere disposto a investire e a far crescere il tuo denaro. Ma perché è così importante accettare la piena responsabilità? Ecco alcuni motivi per cui accettare la piena responsabilità è così importante per raggiungere la libertà finanziaria. Ti dai il controllo. Quando accetti la piena responsabilità delle tue finanze, sei tu a decidere cosa succede con il tuo denaro. Non devi dipendere da nessun altro. Ti motiva. Quando sai che sei responsabile delle tue finanze, sei più motivato a fare le cose giuste. Ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi. Quando accetti la piena responsabilità delle tue finanze, è più probabile che raggiunga i tuoi obiettivi finanziari. Ma come possiamo accettare la piena responsabilità? Ecco alcuni consigli su come accettarla. Come abbiamo già detto, fai un budget. Il budget è il tuo piano per il tuo denaro. Quindi ritorna sempre che è tuo, tutto tuo. Quindi è una cosa che è importante per te e non per gli altri. Quindi fai il tuo budget che è il piano per il tuo denaro. E questo budget ovviamente, come abbiamo sempre detto, ti aiuta a tenere traccia delle tue entrate e delle tue spese e ad assicurarti di spendere meno di quanto guadagni. Questo è un passo molto importante. Rinuncia a cose che non sono importanti per te. Se vuoi raggiungere la libertà finanziaria, devi essere risposto a rinunciare a cose che non sono importanti per te. Questo potrebbe significare ridurre le spese per il divertimento, i viaggi o i vestiti. Investi, anche questo non ne abbiamo mai parlato, cioè l'abbiamo accennato, non ne abbiamo mai approfondito, ma è un argomento molto importante. Perché l'investimento è un modo per poter far crescere il tuo denaro. Ovviamente, sì, mi potete dire, ma io lo lascio in banca, ho il conto che mi dà x% all'anno. Sì, ma per raggiungere una libertà finanziaria, quel 2, 3, 4, 5% che vi danno come interessi in banca, sicuramente non vi dà modo di poter raggiungere la libertà finanziaria, avere un cash flow importante da poter sfruttare mensilmente, diciamo, anche annualmente che sia. Quindi l'investimento aiuta. Poi potete anche lasciarne una parte, chi ce l'ha, beato lui, di più. Una parte lo lascia in banca e una parte lo investe, questo può essere fatto, però ci sono molti diversi modi per poter investire dei soldi. Quindi fai le tue ricerche, scegli un'opzione che è più adatta a te e inizia ad investire almeno quella parte di denaro che ritieni opportuno. Ecco alcuni esempi specifici di come accettare la piena responsabilità delle due finanze. Se sei indebitato, fai un piano per ripagare il tuo debito. Come abbiamo detto, ovviamente, l'abbiamo parlato anche nel video introduttivo, esistono vari modi anche con l'aiuto di professionisti per poter ripianare un debito che hai contratto e magari per pura disgrazia non rilasci neanche più a ripristinare. Quindi vi vengono in aiuto queste società o comunque può essere fatto anche da soli contattando chi ha il debito e magari trattando un saldo estralcio, quindi pagare meno ma pagare tutto insieme o fare un piccolo piano radeale magari in qualche modo o comunque vi vengono incontro perché anche sotto questo punto di vista ci sarebbe molto da parlare a chi ha interesse a avere soldi da voi preferisce magari prenderne meno piuttosto che non prenderli proprio perché questo lo sanno benissimo è più probabile non prenderli quindi preferiscono accontentarsi di meno di solito di quello che effettivamente era il debito. Se non è un budget inizia a crearne uno. Qui non c'è molto da dire perché ovviamente l'abbiamo detto fai questo benedetto budget che ti aiuta più di quel che pensi. Se non stai risparmiando per i tuoi obiettivi inizia a farlo. Esattamente quindi ci sono vari modi ad esempio io su TikTok non è perché voglio fare pubblicità a qualcuno ma su TikTok ho trovato una ragazza adesso sinceramente non ricordo neanche il nome del profilo però è in italiano e parla di budget di come fare il budget e ha il libro del risparmio in cui ci sono diversi tipi di challenge adatti a tutti i tipi di portafoglio che ognuno ha e anche alle tempistiche magari c'è chi ci mette un mese chi ce ne mette due chi ce ne mette un anno però comunque ci sono varie challenge se volete possiamo portarvi anche alcune challenge sul risparmio fatecelo sapere qua sotto sui social se volete vedere qualche challenge sul risparmio e la facciamo insieme magari perché no se non stai investendo inizia a farlo e questo l'abbiamo detto anche prima si può iniziare tranquillamente a investire anche diciamo con somme relativamente piccole si può fare ovviamente quello che si guadagna è rapportato a ciò che si investe ma comunque si può cominciare a fare poi vedremo più avanti come farlo e cosa fare per essere un po' più sicuri ecco diciamo così quindi questo era un video rispetto all'ultimo al precedente un po' più breve perché comunque i passi sono abbastanza smart l'abbiamo anche approfondito nel primo video in conclusione mi sento di dire che accettare la piena responsabilità è semplicemente il primo dei passi per raggiungere la libertà finanziaria una cosa che è importante è essere disposti a prendere le decisioni giuste per il tuo futuro finanziario e per il tuo futuro proprio in generale e se sei disposta a farlo sei sulla buona strada per raggiungere i tuoi obiettivi ovviamente secondo me accettare la piena responsabilità è un passo molto fondamentale proprio nella crescita personale ma soprattutto nel percorso verso la libertà finanziaria certo perché comunque accettare per esempio che sei in una situazione ti aiuta molto a prendere la consapevolezza e poi andare avanti da quel punto lì prendere coscienza di una situazione magari finanziaria non proprio facile ovviamente già c'è una coscienza uno già si rende conto se c'è una situazione non facile però prenderne proprio coscienza mettersi là scrivere un budget e capire effettivamente quanto è difficile questa situazione rispetto magari a quello che pensi magari è più facile di quel che uno crede perché non avendo traccia è difficile andare a capire effettivamente poi qual è la difficoltà magari scrivendo buttando giù semplicemente il budget già capisci qual è l'errore e dove puoi andarlo a sistemare continuando a fare il budget poi la strada si addrizza e riesci a tagliare alcune spese riesci a magari a spostare alcuni soldi diciamo da un fondo all'altro quindi da l'assicurazione magari ci metti troppo perché ne paghi ne meno a quella delle spese giornaliere tra virgolette diciamo che non è la cosa più facile del mondo no ma è fattibile quindi cominciando già con l'accettare la responsabilità seguendo questi piccoli passi che stiamo descrivendo è possibile migliorare il proprio futuro finanziario questo era il secondo video della serie quindi vi invitiamo sempre a iscrivervi a attivare la campanellina a commentare ovviamente a mettere mi piace seguiteci perché nel prossimo video andremo ad analizzare il secondo passo relativo al raggiungimento della libertà finanziaria e così andremo a vedere come si controlla la spesa hai detto tutto tu? ho detto tutto anche io quindi ci vediamo al prossimo video per la famiglia minimalista ciao ciao tu 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 Grazie a tutti.